Buonasera a tutti e bentrovati per questa diretta. Andiamo stasera a trattare dei temi molto molto interessanti e voglio intanto iniziare svelandovi un segreto. Allora, quando vi ho presentato sui social la serata di questa sera, vi ho citato una frase di Brizzi che dice il mondo è bello, siamo noi ad essere ciechi. In realtà, io me la ricordavo diversamente, ve l'ho messa per come è la frase di Brizzi, però in realtà quella che per me è il mio mantra non è la vita e il mondo è bello, siamo noi ad essere ciechi, ma è la vita è facile, siamo noi ad essere ciechi. L'avevo un po' ribattezzata questa frase, però per me, se devo dire la sincera verità, è questa quella che per me è diventata un mantra, ovvero la vita è facile, siamo noi ad essere ciechi. In realtà sembra un no sense, ma per me ha un grandissimo senso. Infatti, dovete sapere che la mia ricerca quotidiana è proprio quella di andare a cercare di rendere la vita più semplice possibile, più facile possibile e bella al tempo stesso, chiaramente. È chiaro che non è che tutta la nostra vita è semplice, facile, però possiamo renderla tale. Anche perché, dobbiamo dirci la verità, io sono nata con un cesareo e e quindi io non ho mai fatto fatica, neanche per nascere. Di conseguenza mi entusiasma tantissimo trovare un qualcosa che mi semplifica la vita. È chiaro che ci sono degli eventi che possono essere difficili, complicati, complessi, però mi piace impegnarmi a trovare delle soluzioni per semplificarli. credo che fondamentalmente la mia vita, sin da che ho memoria, sia stata vissuta proprio con l'intenzione, con questo tipo di intenzione. E vivo proprio nella convinzione, dovete sapere, che ogni essere umano può tutto, se ci si allena chiaramente per qualcosa. Chi di voi mi conosce da tempo, sa che sono cresciuta con mio padre, che mi ripeteva come un mantra la frase, lui è un uomo che si è reinventato tantissime volte e una delle frasi che lui ripeteva tantissimo era quel che un uomo può fare lo posso fare anch'io. Quindi questa frase che ho sentito ripetere come un mantra, per me è diventato proprio il mio stile di vita e quindi cercare di rendere tutto più semplice, so che si può fare, chiaramente serve impegnarci. Ovviamente c'è da dire che per chi desidera ignorare, per chi desidera rimanere nel ruolo di vittima, per chi sceglie e preferisce lamentarsi, piuttosto che avere un punto di vista nuovo, potrò sembrare antipatica, però forse questa non è la diretta giusta. però se dentro di voi avete quella piccola scintilla che vi fa dire sì va bene, fino ad oggi mi sono lamentato, ok lo accolgo, fino ad oggi mi sono sentito un po' vittima, però adesso voglio essere il padrone, il capitano della mia vita, allora vi consiglio di restare fino alla fine perché scopriremo un sacco di cose interessanti. Ora la domanda nasce spontanea, quindi abbiamo parlato di complesso, di difficile, allora la domanda è come facciamo a rendere la nostra vita facile o semplice se una situazione che stiamo sperimentando è difficile, complicata o complessa? partirei dall'etimologia di questi termini perché già in essi si inizia a comprendere come fare, partiamo dal termine facile, il termine facile deriva dal latino facilis che è una derivazione di facere, di facere in realtà, ossia fare che significa quindi facile che si può fare. Quindi una cosa che si può fare è facile, il suo contrario è difficile dal latino difficilus che è composto da dis e da facilis, ossia facile, quindi significa che non è facile. Oppure se preferite a facile usare il termine semplice, anche semplice, ha un'etimologia interessante che deriva sempre dal latino che è simplex, che è composto dalla radice sem, che significa uno solo, e da quella di plectere, ovvero piegare. Quindi se noi andiamo a vedere il significato di semplice, significa piegato una volta solo. Seguitemi perché è interessante quello che vi andrò a spiegare stasera. L'etimologia ci dice che semplice, chiaramente, non può essere piegato mille volte come un origami, no? Avete presente gli origami? La barchetta, l'aranocchia, l'aeroplanino, che sono tutte delle pieghe, un foglio piegato tantissime volte in maniera studiata e quindi capiamo bene che una cosa complicata non può essere semplice. Perché? Perché abbiamo detto che è semplice, è piegato una volta sola, mentre complicato è proprio l'immagine di un origami, piegato tante volte su se stesso. Ma perché l'immagine fondamentale dovrebbe essere quello di piegato una volta sola e non invece quella del non piegato nel semplice? Parebbe più logico, no? Però questa immagine di una piega sola è molto eloquente perché il semplice non è qualcosa di già spadellato, di squadernato, di palese. È un qualcosa che si capisce però senza sforzo. Cioè è una cosa che basta aprirla, un minimo di sforzo fa, minimo. Semplice è qualcosa che non è difficile da aprire alla propria conoscenza, ma però che a un certo punto va comunque aperto. Quindi non è lì palese, però è una cosa che va aperta. Ma andiamo avanti con complicato, ve l'ho già accennato. L'etimologia di complicato viene sempre dal latino complicare, che deriva anche questo da plicare, ovvero piegare, però a differenza del semplice ha come prefisto con, quindi complicare, e sta a indicare qualcosa che è piegato e avvolto su se stesso. Quindi un problema è complicato quando? Quando si presenta come il risultato di un insieme di pieghe, di un qualcosa che non è semplicemente piegato su se stesso, ma è avvolto. Sciogliere una complicazione può essere faticoso, ma esiste comunque una soluzione, perché come un origami che è piegato tante volte, a un certo punto se noi andiamo al ritroso dalle pieghe possiamo aprirlo. Mentre per complesso, perché noi utilizziamo talvolta le parole complicato e complesso come se fossero la stessa cosa. In realtà l'etimologia di complesso è diversa da quello di complicato. Infatti complesso nella sua etimologia deriva da cum più plecto, ovvero intrecciato, tessuto insieme. È un sistema che non è lineare, è composto da più elementi che poi sono collegati anche tra loro. E la cosa interessante di quello che è complesso è che ogni parte, ogni elemento che è collegato tra loro sono indipendenti l'uno dall'altro. Quindi non sono riducibile, non sono prevedibili, non c'è un rapporto conseguenziale di causa-effetto, cioè sono più cose diverse, intricate, insieme. Non è poi così, non è come il complicato che si ha più pieghe, ora tra poco vi faccio capire meglio, che si può a un certo punto rendere più semplice, ma c'è tutta una serie di cose che sono intrecciate insieme tra loro che rendono più difficile, sembra tutto un gioco di parole, andare a trovare il bandolo della matassa. Quindi complesso è un miscuglio, un insieme di cose che possono essere anche molto semplici, che possono non essere molto semplici. Allora abbiamo detto che complicato è qualcosa di macchinoso, però che possiede una logica nella sua piegatura in qualche modo, mentre complesso è un qualcosa che ha tutte queste parti indipendenti e quindi diventa veramente, si riutilizza sempre gli stessi termini, diventa difficile arrivare alla soluzione. Abbiamo spesso parlato nelle nostre dirette quindi del potere delle parole e della vibrazione che esse portano e quanto siano importanti queste parole nella cocreazione della nostra realtà. Ne va da sé che è importante iniziare a dare le situazioni il nome giusto, perché spesso quando sento parlare le persone, quello che sento spesso dire è complesso, è complicato, quando magari è semplicemente difficile, oppure può essere un po' intricato e spesso si dà alle parole, alle situazioni, un significato che le rende ancora più difficili da portare a risoluzione. Spesso abbiamo detto appunto che sento dire che le cose sono complesse quando invece sono complicate, mentre se sono complicate abbiamo capito che basta dispiegarle, ovvero aprire le pieghe per vederle e renderle semplici. Tra poco vi renderò tutto facile. C'è da dire anche che tutti alla fine vorremmo una vita facile, ovvero che si può fare, oppure semplice, con una semplice piega da aprire. Però per renderla tale dobbiamo comprendere che le programmazioni che abbiamo ricevuto nell'infanzia ci hanno in qualche modo piegati su noi stessi, oppure intricati se la nostra vita è complessa. Quindi possono rendere la nostra vita complessa o complicata. Vi faccio vedere come siamo noi oggi e perché ciò è accaduto e poi vi mostrerò come è possibile attingere al nostro potenziale. Adesso vi ho complicato la vostra visione perché vi ho buttato lì un sacco di informazioni. Allora adesso mi voglio far vedere due cose. Uno rigami, la barchetta, so fare solo questa. Quindi questa è una cosa complicata mentre questa è una cosa complessa. Questi siamo noi oggi con le nostre vite, con le nostre esperienze e attraverso questa visione di mondo noi creiamo la nostra realtà, ovvero noi siamo una serie di pieghe o di intrecci. Dipende se viviamo in modo complesso, ovvero composto da molti elementi collegati tra loro, qui ci sono due barchette, ci sono dei fili, quindi sono cose completamente differenti. Oppure se viviamo in modo complicato, con più pieghe è complesso, però è sempre semplificabile. Ma come ci siamo arrivati qua? Come siamo arrivati ad essere una barchetta o una serie di robe a caso che non hanno un senso, che se sono intrecciate tra loro andare a trovare la soluzione di tutto può diventare veramente un lavorone. Partiamo dall'inizio, anzi non proprio proprio dal principissimo, perché in questo momento preferisco rimanere su una parte più semplice, però ne parleremo poi in altre dirette, rimaniamo sul facile. Noi nasciamo fondamentalmente come questo foglio bianco, guardate che continuano a entrare le persone. Lasciamo così, un foglio che ha il potenziale di essere tutto. Su un foglio bianco noi possiamo scrivere qualcosa e un foglio bianco anche qualsiasi colore avrebbe il colore che è, mentre se mettessimo su un foglio giallo un colore celeste diventerebbe un altro colore. Quindi un foglio bianco può essere qualsiasi cosa, ci possiamo scrivere tutto, fare tutto. Poi iniziamo nella nostra vita, quindi iniziamo, nasciamo, quindi iniziano i nostri genitori a proiettarci l'educazione, a dirci chi dobbiamo essere, a proiettare su di noi delle aspettative. Iniziamo così giorno dopo giorno ad andare a scuola, a ricevere l'educazione, a ricevere l'educazione scolastica, riceviamo l'imprinting dai nostri amici, vogliamo essere come loro, la società, vediamo la televisione e via via che noi andiamo avanti nella nostra vita, iniziamo a prendere le pieghe e quello che prima era un foglio bianco dove potevo scrivere tutto, prende una forma. Ovviamente questa barchetta è sempre il foglio bianco, ma adesso crede di essere una barchetta, una barca. La domanda è, una volta che io so che sono diventato un qualcosa a causa di tutte le pieghe che mi sono state date nella vita e che ho ricevuto e ora credo di essere questa barchetta. La domanda è, ma io volevo essere questa barchetta oppure volevo essere, non so, un aeroplanino, un puro rospo, questo me l'ha fatto Federico perché non lo so fare, o semplicemente volevo essere un foglio bianco. Ovviamente me ne devo accorgere, ovvero mi devo accorgere che a oggi ho avuto, subito una serie di pieghe, ho accettato queste pieghe e oggi credo di essere una barca. Il problema nasce quando la situazione da complicata si fa complessa, ovvero prende l'intreccio, ovvero quel foglio bianco viene ridotto a qualcos'altro, che è una barchetta, viene intrecciato ancora con qualcos'altro e tutti questi fili, questi intrecci che possono essere date dalla coscienza collettiva nella quale siamo all'interno, l'illusione di dover essere qualcosa di diverso, i clan, i gruppi di appartenenza, ci portano a intricare il nostro essere barchetta, quindi essere già un qualcosa che si è trasformato in qualcos'altro, ad intricarsi con qualcosa ancora. E tutti questi fili che rendono la vita da complicata a complessa, come vi dicevo, possono essere coscienze collettive e via dicendo. In questo intreccio devo andare prima a comprendere che sono mischiato a qualcos'altro. Devo andare prima a smontare tutte queste parti per poi poter diventare una barchetta e iniziare da lì a comprendere chi sono oggi. Allora ora la domanda successiva nasce spontanea ed è ok Maria Raica, ma come faccio a capire se quello che sto vivendo è perché sono identificato con l'origami complicato o con tutto l'intreccio complesso? Ora ve lo spiego. È facile. La domanda è, la vita che stai vivendo è piena di gioia? Ovvero anche quando incontri una difficoltà sei pieno di gioia? Ovvero anche quando sei in quella difficoltà, in quella situazione, la vivi con la curiosità di scoprire che cosa ti sta dando. La vita che vivi è la vita che augureresti alla persona che ami di più al mondo. Stai vivendo e scegliendo per te stesso o sulla base di qualcun altro? Stai facendo il lavoro che ami o stai facendo un lavoro che ti serve per portare a casa la pagnotta? Senti che ti stai dedicando del tempo per seguire le tue aspirazioni o stai facendo quello che credi di dover fare? Prima ti ho chiesto se quella vita che stai facendo è la vita che augureresti alle persone che ami di più e ti svelo un segreto. La persona che dovresti teoricamente amare di più al mondo dovresti essere te stesso. Ma non approfondirò adesso questo tema perché altrimenti andiamo fuori. Però partiamo da questo presupposto. Prima vi ho fatto la domanda e ti ho chiesto ma la tua vita è una vita che deresti a qualcun altro, che augureresti alla persona che ami di più? Sono certa che in pochi oggi direbbero di sì, che la mia vita è piena e degna di essere vissuta e l'augurerei anche alla persona che amo di più al mondo. Allora ti pongo un'altra domanda, perché la vivi? E se scegli in base ai desideri altrui sappi che sei in una situazione complessa perché stai intrecciando la tua vita con le proiezioni di qualcun altro e micchi te stesso con le barchette degli altri e le loro intricate piegature. Quindi capiamo bene che già la nostra vita da facile è diventata semplice e via via che siamo cresciuti è diventata sempre più complessa. Ma poi siamo noi in base alle scelte che facciamo giorno dopo giorno quando per necessità di essere visti, per la lamentela, per essere riconosciuti ci intrichiamo a tutta una serie di situazioni e di persone o di ideologie o gruppi di appartenenza o coscienze collettive, è una situazione che già di per sé è complicata, la rendiamo complessa. Di oggi ho fatto una domanda che è potente, ti ho chiesto perché vivi una vita che non augureresti alla persona che ami più al mondo, però adesso vuoi andare avanti. Quindi va bene, abbiamo detto, abbiamo colpito nel segno, però la questione non cambia. Allora come faccio a conoscere dove sono stata piegata e ritornare ad essere quel foglio bianco e da lì essere io, colui che dà la forma alla mia vita in un modo che desidero? La risposta sta nel foglio bianco. Perché? Perché noi da qua, da questo foglio bianco, possiamo scegliere chi desidero essere. Sta nell'origine la risposta, l'essere ciò che siamo. E per essere ciò che siamo dobbiamo uscire da quello stato mentale con il quale ci identifichiamo e che ci fa credere di essere solo la parchetta. E per uscire ci dobbiamo in qualche modo riconnettere alla nostra parte divine. Immagina di poter conoscere semplicemente attraverso una risposta a una domanda che cos'è che ha fatto sì che oggi tu sperimenti un certo tipo di esperienza. Noi sappiamo che siamo la conseguenza delle scelte che abbiamo fatto ieri. Le scelte fatte ieri sono le conseguenze di quello che sono state fatte ancora prima come scelte. E tutte quelle scelte che noi facciamo sono state fatte sempre sulla base di ciò che abbiamo creduto o crediamo di essere. E ciò che crediamo di essere fondamentalmente, come abbiamo visto, è stato programmato da altri. Perché è stato programmato da altri. Perché il bambino quando nasce foglio bianco non ha la capacità di educare in un certo senso se stesso. Vede i genitori che sono come delle divinità, i genitori di cui ha bisogno per sopravvivere gli danno delle indicazioni e quindi quel bambino che cosa fa? In qualche modo segue quelle indicazioni. quindi a un certo punto crede di essere questo. Allora per vedere la verità su me stesso in qualche modo devo uscire. Perché? Perché se rimango qui creerò il mio futuro sulla base del mio passato, ovvero quello che altri hanno creato faranno sì che oggi io crei il mio futuro sulla base di ciò che credo di essere. Però vi faccio un esempio, vi faccio vedere una cosa perché per capire in modo semplice. Per uscire dagli schemi di convinzione e per poterli vedere ed entrare in un posto nuovo devo uscire da dove mi trovo. Ovvero se io a un certo punto sono qui, qui voi non vedete niente, quindi se io sono dentro l'illusione di essere una barchetta non so nemmeno di essere una barchetta. però se io l'allontano e vado fuori, esco, quindi esco dall'illusione di essere questa barchetta, posso vedere cosa sono diventato. E posso anche smontarla quando sono qua, perché se sono dentro non posso fare niente, ma se la porto fuori la posso anche smontare e posso fare delle domande e attraverso le domande vedere che cosa ci sta sotto, vedere quali pieghe hanno formato quella forma. Come si è formata questa piega? E questa piega, questa piega che ho dato alla mia vita, come si è formata? E a ritroso, curioso, perché serve la curiosità, posso farmi tutta una serie di domande per vedere quale piega prima e ancora prima e ancora prima hanno creato la forma attuale. E spiega dopo spiega, quindi spiegandoci in qualche modo, dandoci delle risposte, tutto diventa semplice, ovvero ha una piega solo. Questo è il lavoro che faccio nella vita per renderla semplice, spiegarla a me stessa. Perché se io comprendo che cosa ho creduto fino a oggi di essere e ammetto di aver creduto di essere la barchetta, perché se voglio continuare a viverci dentro continuerò a dire no, non è vero che sono una barchetta, ma se io mi do la possibilità di guardarmi da fuori con amorevole distacco e vedere domanda dopo domanda, iniziando dal presupposto che forse non sono ciò che sono realmente, posso andare a creare una piega sola, quindi a spiegarmi e rendere tutto semplice. Riassumendo, abbiamo capito che per rendere la vita semplice va spiegato. E l'unica in grado di spiegare dettagliatamente queste cose non può certo essere la mia mente che è identificata con l'essere barchetta. E allora chi mi risponde a queste domande? Noi stessi, ma nella nostra vera essenza, nella nostra forma più elevata, dove vi sono tutte le informazioni e queste informazioni le posso trovare nei registri acascici. Immaginate ad esempio il nostro percorso attraverso la vita appunto come la barchetta di carta, dove ogni piega rappresenta condizionamenti che sono stati ereditati o proiettati dal momento della nostra nascita, in realtà anche prima, però rimaniamo dal momento della nascita per rendere tutto più semplice. E queste pieghe giorno dopo giorno creano la mia mappa personale, ovvero determinano chi sono, anzi chi credo di essere. Ora pensa ai registri acascici come un grande libro, un grande libro di origami, chiamiamolo così, che contiene tutte le nostre esperienze passate, presenti e anche quelle futuri. E in questo libro, come nel libro di origami, la barchetta viene spiegata con ogni sua piega. E quando noi entriamo nei registri possiamo andare a vedere quando ogni piega si è venuta a creare. È come se potessimo andare dentro ogni singola piega e poter vedere come essa ha creato quello che siamo oggi. E quando abbiamo i registri, appunto, esploriamo queste pieghe, le pieghe di questo libro, chiamiamolo così, multidimensionale. E possiamo vedere ciò che abbiamo vissuto nella nostra infanzia, vedere che cosa ci ha programmato ad essere una barchetta, vedere come ci siamo intrecciati con i fili degli altri. E come aprire quella barchetta è guardare dentro ogni sua piega. Vi ricordate il titolo di questa diretta che è Oltre le sfide quotidiane? Perché oltre le sfide quotidiane? Perché se noi comprendiamo che quelle sfide sono date dall'illusione di essere questa barchetta, comprenderle mi permette di acquisire il mio strumento evolutivo. E lo strumento evolutivo è il ricongiungimento con il ricordo della nostra essenza, ovvero il ricongiungimento alla consapevolezza di essere questo foglio bianco. La magia avviene quando? Nel presente, quando ne abbiamo bisogno, ovvero sono le sfide attuali, quello che noi viviamo giorno dopo giorno, le esperienze quotidiane che possono essere legate alla salute, alle relazioni, al lavoro, al denaro, alla famiglia, che ci spingono ad esplorare le pieghe nei nostri registri. Perché? Perché se la vita fluisce in modo semplice non mi accorgo di essere barchetta, non ho il motivo di dire da qua devo andare qua, perché ci sto bene in questa illusione, però noi sappiamo che ci incarniamo con lo scopo preciso di evolverci, di ricordarci chi siamo, ovvero di ricordarci di essere questo foglio bianco. E noi attraverso le esperienze ogni giorno, attraverso ogni sfida nella nostra vita, è come se andassimo ad esplorare queste pieghe per capire che oggi ci siamo illusi di essere questa barchetta di carta. E le sfide agiscono un po' come delle chiavi che sbloccano delle particolari pieghe, nel libro dei registri diciamo così, portando alla luce delle informazioni, delle risorse che sono rilevanti per affrontare gli ostacoli presenti. Ovvero possiamo andare nei nostri registri a vedere qual è il potenziale a cui io posso attingere per diventare non più il foglio piegato, ma colui che piega questo foglio. Ovvero andare a vedere quali qualità divine come essenza ho scelto di sperimentare e poi attraverso la materia, renderla fisica e non solo più concettuale, ovvero a un certo punto prendo in mano il mio foglio, che è la mia vita, e scelgo di trasformarla come preferisco. Per questo poi comprendiamo che una volta che abbiamo compreso attraverso i registri che cosa ci ha portato ad essere questa barchetta e a ritornare nel nostro foglio bianco, dobbiamo poi agire di conseguenza, perché il fare porta nella vita reale la concretezza e la trasformazione. E sempre per fare l'esempio degli origami, se scopro che voglio essere aeroplanino, per esempio, mi devo mettere all'opera per creare delle spieghe significative nella mia vita e indirizzarmi per poter essere il miglior aeroplanino che posso essere. Non è che mi metto lì come quando alla prima elementare facevo così e avevo fatto l'aeroplanino che non volava mai. Quindi divento consapevole e inizio a dare tutta una piega alla mia vita, come? Comprendendo che io sono il co-creatore della mia realtà. Diciamo che accedere ai registri è un po' come un capitolo specifico, è come aprire un capitolo specifico nel nostro libro della vita e ci permette nei registri di cercare i consigli, le intuizioni che ci possono guidare attraverso le difficoltà attuali, che siano poi queste legate a qualsiasi aspetto della nostra vita e ci permettono, ci viene permesso attraverso i registri di poter andare oltre quella sfida. Perché? Perché non sono più immerso nell'illusione di essere un qualcosa di finito e che mai può cambiare. Attraverso i registri io ho accesso a tutte le infinite possibilità e attraverso i registri sono io che posso comprendere come tornare ad essere pura essenza e diventare il co-creatore della mia vita e scegliere dove portarlo. Diciamo che i registri sono una risorsa evolutiva fantastica perché ciò che è contenuto nei nostri libri della vita può aiutarci ad affrontare le sfide della vita attuale. In che senso? Mettiamo che per superare una certa difficoltà, sempre rimanendo nell'esempio degli origami, no? Se io nella mia vita attuale per superare un certo tipo di difficoltà ho bisogno di essere una forma diversa, attraverso i registri posso andare ad osservare quale forma è utile per me avere per poter superare una certa difficoltà. Per quanto riguarda i registri devo ammettere che ci ho messo degli anni per comprendere l'utilità di questo strumento? Perché preferivo altre tecniche a questa, devo essere sincera, perché perché il modo in cui mi era stato trasmesso era un modo un po' liturgico, quasi come una cerimonia religiosa, sembrava sempre di doversi rivolgere a qualcuno là fuori che prendesse delle decisioni per me nella vita e quindi preferivo utilizzare altre tecniche. Però poi ho compreso che possiamo accedere ai nostri registri in modo autonomo, indipendente, imparando a portare le giuste domande per poter ricevere quelle risposte che mi permettono di andare a trasformare la mia vita. E lo strumento mi ha permesso di aiutare le persone a restituire a ognuno la propria sovranità, a divenire autonomo, a essere capace e presente a se stesso. Quindi vado nei registri, quando accedo ai registri non sono più qui dentro. Quando accedo ai registri io accedo alla versione di me più elevata, accedendo alla versione di me più elevata, comprendo che questa è solo una forma che credo di avere. E quando quindi accedo a questa consapevolezza, attraverso le domande mi è permesso di spiegare e attraverso ogni spiegatura, che sono domande che porto ai registri, per quale motivo, per quale motivo, dov'è che ha origine, a cosa mi è servito, a cosa mi serve sperimentare questa dinamica, che cosa ne trago come vantaggio e via dicendo, mi porta via via, attraverso ogni singola spiegazione, a rendere la vita semplice. Sappiamo bene che siamo alle soglie del cambiamento epico della società, così come la conosciamo. E se avete notato, la società si sta dividendo sempre di più in persone inconsapevoli e che vogliono rimanere tali e persone che ricercano la propria verità e non accettano più di essere barchette di carta, non vogliono più essere queste. E quindi non voglio parlarvi questa sera dei registri akashici, su cosa sono, cos'è l'akash e via dicendo, quello lo trovate da tutte le parti. Non voglio ripetervi un qualcosa, bla bla bla, che trovate un po' ovunque, vi basta fare una ricerca. Non vi darei un valore aggiuntivo se vi ripetessi a pappagallo le informazioni che trovate ovunque. Però ciò che mi sta a cuore stasera è quello di trasmettervi l'utilità per non passare dalla ricerca di un dio giudicante che là fuori ci dà una via su quello che dobbiamo fare a connettisi ai registri per parlare con i maestri, le guide o le persone care che mi dicono dove devo andare o cosa devo fare. No, desidero che ognuno riprenda in mano il proprio potere personale e quindi i registri akashici diventano uno strumento attraverso il quale io posso andare a riconnettermi con la mia parte più elevata e vedere dall'alto ciò che sta accadendo. Cosa credo di essere e cosa ha fatto sì che oggi io credessi di essere ciò e divenire le mani che in qualche modo creano la mia nuova realtà. Come vi ho detto i registri sono come un grande libro che contiene tutte le nostre esperienze passate, presenti e futuri e ci possiamo accedere per comprendere le motivazioni che hanno fatto sì che oggi stiamo sperimentando questo tipo di realtà. Dobbiamo comprendere che nei registri, facciamo così, per comprendere meglio come funziona, come funziona il tutto, torniamo un attimo indietro e pensiamo alle tre leggi. Vi faccio un attimo, scusate se sembra un attimo confusionale ma voglio un attimo riportarvi sulle tre leggi, risonanza, attrazione a specchio perché così capiamo come oggi accedere ai registri e quindi vedere che cosa ha fatto sì che oggi io fossi una barchetta mi è utile. Ve lo raccendo brevemente e con termini elementari però mi serve un attimino fare questa digressione per rendervi tutto più chiaro. Noi crediamo come abbiamo detto prima di essere una barchetta anche se in realtà siamo un foglio bianco. Questa convinzione che cosa farà? Farà sì che la vita venga vissuta come questo rigami. Quindi per risonanza che cosa succederà? Attrarrò nella mia vita, siccome credo di essere una barchetta, mi attrarrò delle situazioni che saranno come un oceano in cui io posso navigare. Ovvero siccome io credo non so di essere una barchetta perché sono talmente dentro che non lo vedo, ciò che attrarrò nella mia vita sarà lo specchio dell'immagine che ho di me, ovvero il mare in cui navigare. Trovate una diretta intera che vi parla di queste tre leggi. Detto ciò, se vi ricordate prima, partendo dal titolo della diretta, ovvero andare oltre le esperienze della vita quotidiana, mi permette di comprendere che la vita quotidiana che sto sperimentando altro non è che il mare in cui navigo e quindi da quella situazione io come faccio a comprendere di essere barchetta? Comprendo che sono dentro un mare, mi connetto ai registri e ciò che vedo è la consapevolezza che ciò che mi sto attraendo è dato dal fatto che sono illusa di essere una barchetta in quel momento. Ok? Quindi attraverso i registri io parto sempre dal mio quotidiano, nel mio quotidiano c'è una situazione che sto sperimentando, conosco che ci sono queste tre leggi, so che la vita è uno specchio che mi sta mostrando questa realtà e in questa dimostrazione di realtà io mi impongo delle domande. Se imparo accedere ai registri dove è registrato tutto con le domande giuste, posso andare a conoscere esattamente dove nascono quelle pieghe e quindi stirarle in qualche modo, spiegarle e così diventa facile perché? Perché so dove si trovano. È come se invece della barchetta, come vi dicevo prima, divengo le mani che spiegano e ripiegano a proprio volere oppure lasciano il foglio aperto, libero di essere ciò che vuole. Cambiano forma, quello che vogliono. Una cosa importante da sapere è che nei registri, che i registri hanno la funzione di fornirci delle informazioni, però non sono delle informazioni veloci, rapide, che ci servono per gestire i nostri affari o per evitare abilmente le lezioni essenziali, perché le persone spesso vogliono accedere ai registri un po' come fanno a volte per la divinazione, per evitare di passare attraverso delle situazioni. I registri non servono a questo, sì ci permettono di poter trasformare una situazione, però non ci invitano alla fuga, perché quello che i registri Akashi ci fanno è quello di darci quelle risposte che ci permettono di andare avanti nel nostro prossimo passo evolutivo. La preoccupazione dei registri fondamentalmente sono quello di farci sapere chi siamo, chi sappiamo di essere, ovvero chi crediamo di essere e chi stiamo diventando. Cioè se io oggi continuo a credere di essere questa barchetta, una domanda che porterei ai registri è che cosa succederebbe se io continuo la mia vita per come sono oggi? La vita per come la vivo oggi è la mia verità? Io sono questo? Oppure come sono diventato questo? E l'esplorazione dei registri raggiunge la sua massima utilità quando ci si concentra sulla pulizia di questi blocchi, ovvero su ciò che ha fatto sì che oggi io credo di essere quella barchetta. Questo ci permette di andare a migliorare la nostra struttura interiore e quando noi andiamo a dispiegarci finalmente possiamo divenire chi siamo, possiamo vedere chi credevamo di essere e divenire chi siamo veramente. La cascia è uno spazio empatico, è uno spazio accogliente dove noi esseri umani, anche se siamo imperfetti, lì dentro, chiamiamolo così, lì dentro, ovvero quando lì siamo nell'energia cascica, lì siamo compresi e apprezzati per ciò che siamo. Nella cascia non esiste il giudizio o la delusione, anzi è un luogo che favorisce la riflessione personale, ci invita ad accettare le nostre fragilità, ci invita ad accettare quelli che noi definiamo errori e vedere quale insegnamento, quale evoluzione si nasconde dietro una situazione. Questa è una dimensione che è caratterizzata da una cultura, chiamiamola così, gentile, rispettosa ed essendo un punto, chiamiamolo così, dove si incontra in qualche modo, c'è la convergenza di saggezza universale, di compassione ma anche di energia, i registri acasici sono un po' considerati una risorsa molto ampia, proprio perché attraverso l'accesso ad essi possiamo andare a coltivare la nostra crescita spirituale, possiamo andare a comprenderci in modo più profondo e riacquisire il nostro potere personale, ovvero vediamo che cosa credevamo di essere, quali sono quelle pieghe che oggi mi hanno fatto perdere tutto il mio potere, perché ho perso tutto il mio potere, perché mi sono identificato con quello che mi hanno fatto credere di essere, ma qui non sta a dare la colpa a qualcuno, è là fuori, i nostri genitori o chi per loro, i sistemi educativi hanno fatto il meglio con gli strumenti che avevano a disposizione, ma oggi è mia responsabilità scegliere se voglio rimanere questa barchetta oppure se voglio diventare un qualcosa di nuovo, come sempre ci vuole coraggio, però attraverso l'accesso ai registri possiamo andare a coltivare la nostra crescita spirituale e acquisire la comprensione più profonda del mio potere personale e in questo ambiente la consapevolezza della mia completezza emerge, perché mi viene mostrato che io posso essere qualsiasi cosa, dipende dalle scelte che faccio e quindi c'è un incoraggiamento allo sviluppo individuale ovviamente senza giudizio e questo spazio è presente sia dentro di noi, oltre il nostro se personale ci offre l'opportunità di esaminare le nostre motivazioni, le nostre azioni, le conseguenze delle nostre scelte, però sempre in una luce gentile, in una luce non giudicante, cioè ci viene mostrato in modo neutro, abbiamo si è creata una situazione, la nostra mente ci direbbe ah guarda che stupido, hai creato questa situazione, non capisci niente, sei sempre un fallito, nei registri acascici invece ci viene mostrato in modo chiaro qual è il percorso che noi abbiamo fatto e che passo dopo passo ci ha portato lì, quindi ci viene mostrato il risultato di tutta la serie di scelte che noi abbiamo fatto. Però non c'è un giudizio, non c'è un qualcuno che ci dice beh hai sbagliato, perché? Perché in quello spazio noi siamo la nostra essenza e sappiamo che tutte le esperienze che stiamo facendo in realtà hanno comunque sempre uno scopo evolutivo e che è sempre un tentativo di amore di sperimentarci come essenza attraverso la materia. Noi sappiamo, ne abbiamo parlato anche nelle ultime dirette vedendo il passaggio ora ad esempio di Plutone in acquario che l'umanità sta progredendo e un'anima alla volta in qualche modo è importante per noi andare verso una consapevolezza differente. E in questo momento storico siccome noi siamo allineati anche ai tempismi del pianeta, quindi il pianeta sta evolvendo e quindi anche noi come esseri umani stiamo evolvendo e quindi abbiamo ora raggiunto un livello di sviluppo sufficiente per accedere a dei livelli di consapevolezza più elevati e anche raggiungere degli stati di coscienza superiori, chiamiamole così. E allo stesso tempo man mano che noi ci evolviamo, ci riconnettiamo alla nostra parte divina, scarichiamo in qualche modo delle conoscenze che poi possono diventare una volta messe in atto delle consapevolezze, possiamo in qualche modo contribuire anche allo sviluppo del pianeta stesso. L'obiettivo finale è quello di poter in qualche modo ospitare la vibrazione della nostra essenza e portarla nel mondo ed essere quella luce che può brillare può far veramente la differenza andando ad essere quel cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Plutone in acquario come vi avevo già accennato in altre dirette ci richiede proprio di creare una nuova società partendo proprio da noi stessi. E allora se abbiamo scelto di cavalcare l'onda di questa energia per lasciarci accompagnare in questo viaggio lo dobbiamo fare nel modo migliore. Bisogna essere noi il vero cambiamento perché parte tutto da noi, cioè siamo noi la prima cellula che poi per riproduzione in qualche modo attraverso la ripetizione, attraverso il portare uno cambio vibrazionale nel nostro mondo, nel nostro circondario, chiamiamolo così, nei nostri gruppi di appartenenza, portarlo nel mondo al fine di poter essere quel cambiamento, un po' ad essere il primo tassello di questo domino. Anche se prima la lettura dei registri akashici era più in qualche modo data a delle persone che avevano delle capacità, andavano in trans, avevano, andavano stati alterati di coscienza molto profondi, adesso è diventato molto più accessibile, è molto più alla portata di tutti. E siamo passati dal metodo inconscio a quello conscio, cioè possiamo andare, non c'è più una categoria particolare di persone che ha la possibilità di accedere, però noi consapevolmente, coscientemente, se vogliamo, possiamo andare ad accedere ai nostri registri. Possiamo stabilire, diciamo così, un collegamento diretto e consapevole con la luce della nostra essenza divina, senza dipendere più dalle religioni, da organizzazioni, da dogmi, da istruzioni, da guru. Possiamo imparare a lavorare da soli, a divenire autonomi per noi stessi, ma anche poi anche per gli altri. Anche le persone comuni oggi, che hanno veramente desiderio chiaramente, di connettersi con i propri registi, possono farlo. E possono farlo attraverso, diciamo così, la presenza, con la maturità sufficiente, valutare la situazione e dire ok, qui c'è qualcosa di me che è importante oggi sapere, è qualcosa di me che è importante oggi conoscere. Voglio andare a comprendere attraverso questa dinamica, questa situazione che si è sviluppata nella mia quotidianità, voglio andare a vedere che cosa l'ha originata, perché la voglio trasformare. E allora i registri acascici in questo modo diventano uno strumento utile partendo dagli episodi della vita quotidiana. Però vi voglio fare un esempio. Vi voglio fare un esempio pratico raccontandomi una cosa della mia vita. Molti di voi mi hanno sentito sicuramente parlare della storia del rum, che il regalo che Federico mi ha fatto due anni fa per Natale, che per me è stata una tragedia. Due anni fa per Natale il mio compagno mi regala una bottiglia di rum. Racconto questa storia degli amici a cena, tra cui questo amico per il compleanno, quindi passano cinque mesi e mezzo, cosa mi regala? Una bottiglia di rum. Lì per lì dico vabbè, mi piace sì il rum, però non sono una che beve il rum, perché comunque sia sì mi piace, se me lo offre, se siamo fuori, se è la marca che mi piace, ma non è che sia una che beve il rum. Però lì per lì ho pensato che questo amico in maniera goliardica mi volesse fare uno scherzo. Fino a quando è arrivata lei, la mia collega, che quest'anno, imbarazzata, mi guarda dopo Befana, travescentemente, e mi fa, oh raga ti devo raccontare una cosa, fa io lo sai che sono diventata matta, ti volevo regalare il rum per Natale. Ma come il rum per Natale? Ma è tutto raccontato anche a te la storia del rum di Federico, che me l'ha regalato anche quell'altro Federico, ma siete tutti fissati con questo rum. E allora ci faccio una lettura cascica, perché a un certo punto una può essere una situazione, dico va bene, mi sono attirata Federico che mi ha regalato il rum per Natale, ricordiamoci, no? Risonanza, attrazione e specchio. Quindi Federico che mi regala il rum è lo specchio, mi sono attratta quella situazione che io ho visto fuori come Federico che mi porta questo regalo, me la sono attratta perché dovevo vedere un qualcosa di me che ancora non mi permettevo di vedere, ovvero che mi ritenevo, siccome credevo che il rum fosse un regalo da maschi, mi credevo nell'energia troppo maschile. E quindi per attrazione, in base a come risuonavo, mi era capitata quella dinamica. Poi il secondo non ci avevo badato più di tanto, avevo pensato vabbè l'ha fatto in maniera goliardica per farmi uno scherzo, ma la mia collega no, facciamo lo stesso lavoro, perché mi devi regalare il rum? Sì che mi sono fatta questa domanda, allora faccio una lettura cascica e quello che ho scoperto è stato molto interessante, ovvero mi sono connessa ai registri cascici e ho chiesto qual era il motivo per cui mi sono attratta questa dinamica, perché a questo punto c'era da capirla. E mi è stato mostrato che tanto amore che provavo per mio padre e l'amore che provo per mio fratello, non avrei mai detto, hanno fatto sì che io tenga viva in me una loro parte. C'è da fare un piccolo preambolo, loro amavano tantissimo il rum e era un regalo che tendenzialmente gli facevo per le feste comandate, per il Natale, per il compleanno, che erano quelle feste che passavamo insieme. Quindi per me mi è stato mostrato che siccome per loro era motivo di gioia ricevere quel rum, perché a loro piaceva veramente, per continuare a portare con me il loro ricordo, la vibrazione di quella gioia, sentirli come se fossero con me in quei momenti attiravo nella mia vita persone che inspiegabilmente necessitavano di regalarmi il rum. Per me era proprio quel rum un modo per tenere vivo e festeggiare con mio padre e con mio fratello. Però questa cosa io non ci sarei mai arrivata se non l'avessi vista nei miei registri, se non avessi posto la domanda. E allora ho capito e a quel punto quando capisco succede questo. Finché prendo il rum, sono qua, se mi lamento. Nel momento in cui vado nei registri vedo questo, cioè il rum, vedo la situazione. Il rum me lo sono attratta perché volevo continuare a sentire con me nei festeggiamenti l'energia di mio padre e di mio fratello e il rum era un elemento che gli accomunava. In questo modo io posso capire, posso scegliere di lasciare andare quel ricordo, posso scegliere di lasciare andare quella dinamica. Quindi che cosa è successo? Che quella cosa complicata è diventata semplice e qui la posso trasformare perché mi basta semplicemente aprire l'ultima piega, ovvero scegliere di lasciarlo andare. L'averlo visto significa tu sei fuori di me, non sei più me. Quindi questa è già una trasformazione. Nel momento in cui da dentro esco fuori e la vedo, so che non sono più io e qui è già trasformazione. E questa cosa senza registri o anche con altre tecniche perché comunque ce ne sono anche altre non l'avrei potuta vedere, non la potevo conoscere perché ero dentro la barchetta, continuavo ad essere lì. Questo è un esempio semplice, pratico, però non potete immaginare o quantomeno potreste anche quanto la nostra vita si trasforma se impariamo a fare le giuste domande, permettendoci proprio di accogliere poi le risposte. Perché i registri, nei registri a Cascici, noi portiamo le domande e attraverso i registri non riceviamo le risposte. Quindi si ritorna sempre a quello che io chiamo il superpotere, ovvero quello della domanda. Ci sarebbero tante cose da raccontare e lo farò poi nel corso di formazione inerente ai registri a Cascici che terrò proprio con l'entrata di Plutone in acquario il 20 e il 21 gennaio di quest'anno. Ci saranno poi chiaramente anche altre date per chi vedrà questo video registrato e lo vedrà successivamente, però nel commento sotto a questo video, comunque che lascerò poi su YouTube, lascerò anche lì il link per contattarmi direttamente su WhatsApp per chi desidera poi fare il corso di formazione dei registri a Cascici per imparare a leggere i registri a Cascici proprio quelli cosmici e quello degli altri. Quindi niente, tutto quello che vi volevo dire questa sera, ve l'ho detto, vi volevo far comprendere come l'illusione di essere, l'illusione di essere la nostra macchina biologica ci fa vivere in qualche maniera in un determinato modo, quando in realtà noi, se ricordiamo di essere questo, possiamo divenire tutto ciò che desideriamo. Bene, allora, adesso saluto le persone che stanno guardando il video registrato e rimango qui per le vostre domande e vi vado a leggere. Spero di... per me era semplice, sono stata semplice nello spiegarvi le cose, all'inizio lo so, è stato un po' complicato. Bene, vi auguro una buona serata e resto qui per le vostre domande.